FASHION TIME! E' la prima volta che la Camera decide di organizzare questo evento con i fashion blogger, da spazio ai fashion blogger. Una cosa interessante, visto che comunque i blog iniziano ad avere un sacco di successo. Quando vende un po' di voce in capitolo, in Italia soprattutto. Potete, non si entrare un po' più nello specifico, raccontarci un po' qualcosa? Siamo stati accreditati a quasi tutte le sfilate. Specialmente ai backstage, per fortuna. Poi nulla, avremo un incontro direttamente con la dottoressa Giulia Pirovano per parlare di questa esperienza. Confrontarci se possiamo migliorare anche per la prossima Milano Fashion Week Dawn. Se c'è qualcosa da modificare, qualche piccolo accorgimento. Ma quindi ci sarà comunque nel sito interest della Camera Nazionale della Moda una sezione? Già c'è un ufficio stampa che si sta occupando di tutto. Perfetto, allora in bocca al lupo. Grazie. Grazie.